Musica Ciao a tutti ragazzi di Ristorante 6 e benvenuti in questo nuovo HG Siamo in un HG molto strano, si abbastanza sinceramente Ok ero tipo sotto, sotto a cosa non so perchè ma non chiediamocelo ok Allora siamo sotto sull'HG, vi metterò in link o l'IP in descrizione Sì no questa volta lo terrò sopra non in descrizione ok così vi farò vedere un attimo come si fa In ogni caso e siamo per partire, abbiamo 10 secondi per andare a recuperare della roba e scappare velocemente come facciamo di solito Questa volta scapperò perchè non sono intratto a morire di nuovo Vai Ulisse, corre piccolo Ulisse corri, saltella come non hai mai saltellato Ok c'è una piccola cesta lì vediamo cosa c'è dentro Oh un'armatura intera, good job No non proprio intera però va benissimo così Ok allora adesso bisogna scappare da quei buchi Il bello di questo mondo è proprio perchè è molto ampio e non ha problemi di limiti o eccetera Quindi per esempio l'unica cosa brutta è che bisogna tipo scendere pian piano perchè se no si muore Ci sono già dei player che sono usciti, hanno fatto un'ottima idea in effetti Abbiamo anche un po' di cibo da parte quindi siamo un po' avvantaggiati rispetto agli altri Ma dobbiamo trovare subito una spada, oh cavolo, 360 veloce veloce Piccolo mouse cattivo che ogni tanto li fa e ogni tanto invece mi lagga come il porco che non conosce nemmeno lui Ok lì c'è una casetta che io penso andrò a vedere subito Voglio un piccolo pezzo di spada, si almeno una spadina O comunque una crafting table al momento sarebbe ideale Ok penso che sia un lag momentaneo sia causato comunque dal fatto che c'è una cosa gigantesca Dai non li laggare Dai tizio, dai tizio riprenditi Dai cucciolo, dai Dai, dai piccolo, dai Ok ce l'ha fatta ragazzi Cerchiamo di non morire nel mentre va Qui c'è un player che si nascondeva, stronzo Morirai Io ho un armatura migliore di te Morirai perché sei nabbo E perché larghi Chi vincerà tra noi due ragazzi? Lo scoprirete nella prossima puntata No scopriremo adesso Ma no mi ha ucciso What the Ok Ma no dai come mi hai killato Mio dio What 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 Ok Ragazzi non caricherò altri episodi Ma mi piace tipo riuscire a vedere come miglioro pian piano Siamo tipo due minuti di tempo Siamo solo risulti Yeah viva me, viva te, viva noi Olè Ciao ragazzi